e le decisioni che prenderemo nel prossimo futuro il green pass per tutti il green pass per tutti lavoro pubblico lavoro privato servizi pubblici servizi privati allora adesso qual è il gioco da fare da aumentare agli opportunisti il costo della non vaccinazione come gliela aumenta agli opportunisti qual è la logica devo dire geniale del green pass tu dici o ti vaccini no non mi vaccino benissimo o guarisci vabbè se non l'ho preso e allora ti fai i tamponi i tamponi sono un costo psichico fatevi infilare dentro il naso fino al cervello e i cotton fioc lunghi ecco è un costo psichico il costo monetario 50 50 euro due volte 60 euro più il costo organizzativo tu gli aumenti il costo aumentandogli il costo tu lo spingi a ridurre lo zoccolo quindi il green pass mi piacerebbe spiegarglielo a quelli che fanno ancora problemi a questo obiettivo di schiacciare gli opportunisti ai minimi livelli di non influenza sulla velocità di circolazione del virus ci stiamo arrivando